Una speranza per altre persone. Terzo prelievo multiorgano dall'inizio dell'anno al Santa Croce di Fano. I familiari di una paziente ricoverata e deceduta in reanimazione hanno consentito alla donazione degli organi. Ieri mattina sono iniziati gli accertamenti. L'attività di prelievo è proseguita poi nel pomeriggio per concludersi nella nottata e si è svolta nel blocco operatorio del presidio dove era pronta un'equipe interamente dedicata. Le procedure sono state condotte dai professionisti della rianimazione, della neurologia, dell'anatomia patologica e della direzione medica in collaborazione con il personale medico-infermeristico e del blocco operatorio. Il collegio medico e l'equipe esterne sono intervenute invece per le procedure di prelievo e donazione degli organi. Un riconoscimento particolare per l'estrema sensibilità e generosità dimostrata in un momento così doloroso dai familiari della signora deceduta, hanno commentato i medici, e l'impegno di tutti i professionisti della salute ha reso possibile ancora una volta riaccendere la speranza per altre vite. Le donazioni di organi sono un indice di qualità delle strutture sanitarie hanno concluso e i risultati ottenuti ne qualificano l'attività.